È incredibile, ma ancora una volta per il terzo giorno di fila siamo a parlare di Silvio Berlusconi che scuote la politica italiana, la scuote di nuovo con un audio rubato a quanto pare e caccia dentro al gruppo dei deputati di Forza Italia su chi l'abbia diffuso, purtroppo però è il contenuto di quest'audio che mette in difficoltà l'Italia e la maggioranza alla ricerca di una quadra per fare il governo, un audio che insiste su quei temi di cui abbiamo già parlato nei giorni scorsi, dell'atlantismo, comunque dell'amicizia di Silvio Berlusconi con Putin e della sua lettura, tra poco vedremo di questo conflitto, tutto questo si interseca con le grandi partite della Toscana, una su tutte, la multiutility che vede il via praticamente con l'avallo dei consigli comunali, ieri Firenze e Pistoia, con il sindaco di Pistoia parleremo oggi anche di questo, ovviamente approfondiremo tutti i temi locali, ce ne sono davvero tanti, quindi lo facciamo oggi a prima di tutto. Questo programma è offerto da NigroCostruzioni, creiamo spazi, costruiamo il futuro, www.nigrocostruzioni.it Confcommercio Pistoia e Prato, scopri i vantaggi di essere socio. Buongiorno, bentornati a Prima di tutto, oggi ci sono veramente tante notizie interessanti da approfondire, sia dal punto di vista nazionale e internazionale, sia dal punto di vista locale, lo facciamo come ogni giorno approfondendo i giornali quotidiani e con i nostri ospiti, oggi è anche una novità che è una coincidenza, ma anche una contingenza, ovvero il fatto che alcune edizioni digitali dei giornali non sono uscite e quindi noi che ci alziamo presto dello staff di Prima di tutto abbiamo anche dei giornali cartacei da mostrarvi per proprio raccontare la giornata, io partirei proprio da questo, anche in qualche modo un omaggio se vogliamo a Uvaldo Masci, a l'inarrivabile Masci che faceva questa rassegna stampa su TV Prato, una TV non più locale, non più solo locale, ma anche regionale, però insomma quando lo faceva lui, ho in mano l'edizione di Repubblica che reca questo titolo Meloni Roulette Russa, vi leggo il sottotitolo del giornale di Molinari, ultimatum della Premier in pectore a Berlusconi, l'Italia è con l'alleanza atlantica, chi non è d'accordo fuori dal governo a costo di non farlo, questo è il titolo di Repubblica. Passiamo però immediatamente al Corriere, il Corriere della Sera, Meloni, abbiamo qui sullo schermo stop a Berlusconi, la leader dopo l'audioshock su Kiev nel governo, chi è con la Nato e Unione Europea, o non si parte, questo è il monito della Premier in pectore, il Cavaliere all'incontro con i parlamentari, guerra a colpa di Zelensky, poi la precisazione Letta e Conte vanno ovviamente all'attacco. Che cosa è successo? Ce lo dice Paolo Di Caro e ve lo voglio leggere, è molto importante che si capisca in questo passaggio istituzionale molto importante che ci porterà probabilmente domani alla chiama del Presidente della Repubblica per le consultazioni ai gruppi parlamentari, diffuso un nuovo audio di Berlusconi, questo è quello che è successo, registrato durante l'incontro del leader con gli eletti di Forza Italia, si parla degli eletti a Montecitorio perché il precedente audio era stato diffuso dopo essere stato registrato fra i senatori. Frasi in difesa di Putin sulla guerra in Ucraina, guerra nata, dice Berlusconi, per le provocazioni di Kiev nelle Repubbliche del Donbass, in serata arriva la precisazione da sempre atlantisti, dice il leader di Forza Italia, che però sono giorni che, diciamo così, terremota questa convinzione con le sue dichiarazioni e con la sottolineatura ovviamente della sua amicizia con Putin, l'esecutivo sarà parte dell'Europa e dell'Alleanza Atlantica, questo è quello che dice Berlusconi, chi non fosse d'accordo lo dice anche Meloni in questo caso, con questo caposaldo non potrà far parte del governo, Letta e Conte vanno all'attacco, oggi iniziano, quindi non domani come vi dicevo prima, le consultazioni al Colle, già oggi appunto quindi ci potrebbe essere l'indicazione annunciata da parte del gruppo del centrodestra appunto di Meloni Premier, gruppo del centrodestra che come tutti sapete è composto da quattro partiti, oltre ai centristi anche Forza Italia e ovviamente Fratelli d'Italia, vincitori delle elezioni e la Lega e questo è quello che accadrà molto presto, quindi ci dobbiamo aspettare che ci sia un'evoluzione molto molto rapida. Di tutte queste notizie ma anche delle notizie locali molto importanti, voglio mostrarvi solo per farvi capire di che cosa si tratta, che cosa sta succedendo, Firenze vota sì alla multi utility, quindi via libera del Consiglio Comunale, ma anche di quello che sta succedendo dentro le stanze del PD, ieri c'è stata una riunione del PD regionale dopo quella che è stata un passaggio a vuoto sicuramente per le politiche o comunque difficile poiché per la prima volta Fratelli d'Italia almeno in una delle due Camere ha superato come consensi la coalizione del centrosinistra e appunto i vincitori delle elezioni di Fratelli d'Italia sono stati il primo partito almeno in una delle due Camere, ebbene di tutto questo parleremo anche dell'onda lunga di questa riflessione, lo facciamo sicuramente con un ospite graditissimo che è venuto a trovarci dopo che ieri c'era stato qualche problema tecnico, ma subito siamo capaci di rimediare ed è il Presidente della Toscana Eugenio Gianni, lo facciamo anche però come vi avevo annunciato precedentemente, poi collegati con il Sindaco di Pistoia Alessandro Tommasi, lo facciamo qui a prima di tutto e lo facciamo dopo lo spot Studi medici Esthetic Medical Care, nuova sede in via Udine 56 Nuovi servizi Gastroscopia da 115 euro Colonscopia da 145 euro TAC da 110 euro Mammografia da 80 euro Risonanza magnetica alto campo 1,5 Tesla da 130 euro Macchinari all'avanguardia, massimo comfort per il paziente Nessuna lista d'attesa, convenzionati con le principali assicurazioni sanitarie Esthetic Medical Care, ogni giorno al tuo fianco Prato all'anno Prato all'anno Siamo da 30 anni al vostro servizio Presenti su tutto il territorio E reperibili 24 ore su 24 I nostri impianti sono tutti certificati Prato all'anno Prato all'anno Sicuro e meglio Siamo a Prato In via Curtatone 16 Telefono 0574 25965 Era un colpo perfetto Avevo curato ogni dettaglio Eppure sono qui Mi definivano abile Scaltro Infallibile E anche se non ce l'ho fatta Ci riproverò Potete stare tranquilli voi Comprato poi Non è un caso che siano professionisti della sicurezza Buongiorno Bentornati prima di tutto Quest'oggi l'approfondimento è contemporaneo La lettura dei giornali Perché il piatto è ricco Qui in questa trasmissione Voglio salutare subito i miei ospiti Il presidente della Toscana Eugenio Gianni Qua in studio Buongiorno Buongiorno presidente Grazie di essere venuto E anche il mio ospite collegato Il sindaco di Pistoglia Alessandro Tommasi Buongiorno sindaco Buongiorno a lei Adesso aggiustiamo anche l'audio in studio Ho visto che ci salutava Benissimo Io partirei proprio dal titolo del Corriere Fiorentino Ma che è anche quello della Repubblica Firenze Che insomma nella sua edizione appunto Toscana Racconta di questo sì alla Multitility Presidente la voglio coinvolgere subito su questo Leggo solo qualche riga di Mauro Bonciani È un traguardo storico Non si torna più indietro Il sindaco Nardella esulta dopo il voto del Consiglio Comunale Che ha detto sì alla Multitility per i servizi su rifiuti Acqua e d'energia Che fonderà Alia Publiacca e Consiag Dopo appunto i principali attori presidente Che sono Firenze Prato ed Empoli Anche Pistoia Ha raggiunto diciamo Con una mediazione Poi chiederemo conto anche al sindaco Di questa sua posizione Gli altri comuni Nella logica della concordia che lei propone del resto Dall'inizio del suo mandato È un passo importante forse per la Toscana Ma io lo vedo come un passo davvero molto importante Anche bello Poi Tommasi ne parlerà Che in qualche modo ci unisca nel comprensorio E nell'area vasta più importante Non solo della Toscana Ma nel centro Italia sicuramente I quasi due milioni di persone che vivono Sono un milione e settecentomila Fra Firenze, Prato e Pistoia Possano accompagnarsi a servizi Che vengono svolti da una società Che ha un forte peso Da un punto di vista della compagine societaria pubblica E che quindi può perseguire degli obiettivi pubblici Nell'erogazione dei servizi Un minor costo delle tariffe Una capacità di investimento Che viene sorretta appunto dal pubblico Basti pensare che proprio attraverso società come queste Noi siamo la regione che ha ottenuto più soldi Nel piano nazionale di ripresa e resilienza Per eliminare quella che è la dispersione idrica Perché se non fa investimenti è evidente che tubi che sono sotto terra Vale per l'acqua Ma vale anche per tutto il tipo di servizi Che poi lì possono passare Insomma c'è una dispersione Io ritengo che sia stato un intervento molto importante Quello di aggregare E contemporaneamente di lanciare un messaggio Di possibile espansione Per tutto quello che è il sistema dei servizi toscani E quindi intanto si fa la multi utility Laddove vi è stata la disponibilità Firenze, Prato, Pistoia In questo protagoniste Aggiungo Empoli che è provincia di Firenze Ma che è un suo specifico d'autonomia Ma poi progressivamente verso anche Arezzo Verso Siena, verso Pisa Intanto si parte Questo è un esempio che è stato positivamente indicato Da altre realtà italiane Perché è indubbio che in Emilia Romagna C'è stato questo sforzo Ecco questo, scusi se la interrompo Glielo voglio chiedere subito Poi passiamo anche magari a Tomasi C'era veramente il rischio Glielo voglio chiedere Presidente Perché lei è conoscitore anche del territorio Che fossimo mangiati in questi servizi dagli altri Mangiati e comprati ovviamente Era il vero pericolo Questo che dici era il vero pericolo Perché il sistema dei servizi pubblici in Italia Parte 30 anni fa Da una visione totalmente municipale Ovvero dei singoli comuni Quando io entrai in consiglio comunale a Firenze Allora ricordo che esisteva per dire L'AFAM, l'ATAF, l'ASNU E erano tutte Questo A stava per azienda municipale Dei rifiuti, del trasporto pubblico Delle farmacie, del latte, del gas Naturalmente sono servizi industriali E di conseguenza proprio l'evoluzione tecnologica Ha creato l'economia di scala Cioè più ti ampli e più riduci i costi E più riesci a offrire efficienza Nell'aggregazione di quelle che erano aziende municipali Ci sono realtà che sono andate nel senso del mantenimento Di un profilo di dominio territoriale E conseguentemente sono state utili di supporto Anche all'azione dei comuni Fare delle aziende efficienti E questo è avvenuto soprattutto in Enilia Ma anche nel Lazio Pensate alla municipalizzata ASEA Che poi ci ritroviamo in gran parte delle aziende dell'acqua Progressivamente stava succedendo che In Toscana si va alla gara per il trasporto pubblico E la vincono i francesi Si va al sistema dell'acqua E ci ritroviamo che con il 40% ASEA L'azienda romana Ha il suo diciamo ruolo di indirizzo e di guida Si va a parlare di energia E ti rende conto che Italgas con Toscana Energia Assume la maggioranza Ci trovavamo in qualche modo Sempre più verso la strada della colonizzazione Della guida dei nostri servizi Quindi anche di fronte a una strada obbligata Per affermare quello che è un modello Quello toscano che insomma il presidente Spesso ricorda Non solo nell'amministrazione Ma a proposito di modelli Voglio coinvolgere il sindaco di Pistoia Nella sua provincia solo Marlia e Agliana Se non ricordo male hanno votato negativamente Però ovviamente il comune di Pistoia Invece ha diciamo avallato il progetto Lei è il sindaco di centrodestra Più rappresentativo in Toscana Ci racconti il sindaco Tomasi Perché diciamo è d'accordo con In questo caso diciamolo Perché insomma molte volte è chiaro Che le voci sono dissonanti Rispetto alle amministrazioni Che sono diffuse nella regione Proprio perché siete di due parti politiche diverse Ci racconti perché avete aderito a questo progetto E a quali condizioni Sì grazie Buongiorno Buongiorno Giorgio Buongiorno presidente Perché stiamo giocando una partita a poker Siamo all'ultima mano E abbiamo una coppia in mano E abbiamo fatto l'in Perché la colonizzazione è in atto Il presidente ricordava alcune cose Io ne aggiungo altre Ricordate la vicenda di Casas Passerini Che poi è fallita Quindi la mancanza di impianti Dentro la società che doveva costruire Casas Passerini C'è alcuni impianti molto importanti Nel sud della Toscana Come aziende come sei Sono stati comprati da IREN Quindi la colonizzazione è in corso Il rischio che scompaia tutto Non solo Il rischio delle gare Come diceva il presidente Dopo quel disastro del trasporto pubblico Sono anche vicine le scadenze Delle concessioni Della gestione del servizio idrico E potrebbe vincere per esempio Acea Suez Ricordavo al presidente Che tantissimi utili Volano in altre regioni Ma faccio un altro esempio La gara Consip 4 Per cambiare nei comuni L'illuminazione è stata vinta da ERA Quindi chi aderisce Comuni chi aderisce Ogni lampadina che viene cambiata Gli utili contribuiscono in altre regioni Ad asfaltare le strade A costruire scuole E' questo Abbiamo le tariffe dell'acqua Più alte d'Italia E siamo in carenza Di investimenti importanti ERA fa circa 580 milioni di investimenti Cosa sono gli investimenti? Sono tubi non più in amianto Sono bacini per accogliere l'acqua In momenti di crisi idrica Sono depurazioni Sono la transizione ecologica Quindi noi abbiamo purtroppo perso tempo Questo processo è iniziato Nel 2002 All'epoca governava Bologna Guazzaloca Quindi c'era anche lì Una differenza politica Ma lì all'inizio di questo procedimento Decisero con lungimiranza Di fare questo soggetto Lei ha qualcosa in comune Sindaco Lei ha qualcosa in comune con Guazzaloca Credo che fosse il primo sindaco Che commerciava in carne Ricordo di mestiere Ricordo fu un racconto giornalistico importante La prima volta che un sindaco di centrodestra Conquistava la rossa Bologna E lei è il primo sindaco di centrodestra Di quella che era la rossa Pistoia Ovviamente immagino che Gianni si augurerà Che ritorni ad essere rossa Ma adesso a parte le battute No ma i colori di Pistoia sono bianco e rosso Quindi quello rimane E a me pare che il bianco E a me pare che il bianco accomuni entrambi i nostri ospiti Lo spiego perché Perché sono i massimi esponenti istituzionali e amministrativi Sul territorio dei maggiori partiti della Toscana e d'Italia Questa è la verità E però sono entrambi molto moderati Diciamo almeno nei metodi Poi insomma questo è quello che ci restituiscono le cronache Scusate vi coinvolgo subito Vediamo poi su quante altre cose sarete d'accordo Però non possiamo In questo programma che fa anche insomma Della analisi dell'informazione La sua ragione Non affrontare la questione principale in Italia Rispetto al tema politico In particolare ci sono delle Diciamo così Anche delle procedure Che nel giornalismo insistono E sono sostanzialmente Quelle di essere coinvolto In una sorta di processo mediatico Che va molto più veloce Della nostra giustizia ordinaria Oggi lo fa il Corriere della Sera Con un'intervista Ecco quello che voglio dire Che spesso i giornali sono la cassazione Di ciò che accade E Silvio Berlusconi rilascia un'intervista Al Corriere della Sera Per spiegare tutto quello che è successo In queste ore Ovviamente non vi chiederò conto Di quello che dice Silvio Berlusconi E ci mancherebbe altro Però vi leggo qualche passaggio dell'intervista Perché è interessante Presidente Scrive e chiede Marco Galluzzo Le sue parole su Putin Hanno suscitato un vespaio di polemiche E non crede di aver messo in ulteriore difficoltà La formazione del governo Sinceramente risponde Berlusconi Data la gravità del momento internazionale E l'importanza delle decisioni Da assumere per il futuro del nostro paese Pensavo di non dover dedicare Anzi di dover dedicare Il mio tempo a cose più importanti Che a rettificare interpretazioni distorte E quali sono queste interpretazioni distorte Perché giustamente Galluzzo Chiede private o pubbliche Quelle parole sono sue Ma è tutto Dice Berlusconi Fuori contesto È stato diffuso senza conoscere Il senso globale delle mie parole Con il solo scopo Di diffondere calugne e disinformazione In un articolo di Labate Nella pagina seguente Si parla proprio della caccia A chi avrebbe diffuso Questo audio Sapete che insomma Forza Italia Sconta anche la difficoltà Di essere spaccata In due correnti Abbastanza riconoscibili Però Quello che voglio dire Che Berlusconi cerca Di rassicurare Insomma Il resto del mondo Ci sono molti riferimenti Agli Stati Uniti d'America Insomma Sotto la cui scure È finito anche Il suo ultimo governo Devo dire Anche quella della Germania E quella degli Stati Uniti d'America Quindi conosce bene Berlusconi Qual è il rischio Ora Presidente Le voglio chiedere subito Parte male Questa formazione del governo Secondo lei Berlusconi può minacciare Con queste sue posizioni No Questa è una Questione Quella dei rapporti Internazionali E del nostro approccio A quello che è La guerra in Europa L'occupazione russa Dell'Ucraina Molto seria E su questo Dobbiamo essere molto fermi Devo dire Che peraltro Personalmente Ho anche apprezzato La chiarezza E la nettezza Dico lei Che sarà Molto probabilmente Incaricata Di guidare il governo Non possiamo lasciare Spazio Ad ambiguità Noi abbiamo Di fronte Uno scenario internazionale In cui la Russia Ha voluto Per una vocazione Esclusivamente Di espansionismo E di Conquista di potere Occupare Uno stato sovrano Uno stato Con una sua identità Culturale Identitaria Molto forte L'abbiamo visto Quanto il popolo Ucraino Per la propria libertà Stia morendo E stia soffrendo Anche un modo Di vivere Quello che è Il conflitto bellico Assolutamente Inaccettabile Così profondamente Lesivo Dei diritti Della persona Dei diritti civili I bombardamenti Avvengono Da parte Della Russia Sugli ospedali Su Le case Dove muoiono Bambini Dove muoiono Persone indifese Io Ritengo Che sia Qualcosa Che colpisce Profondamente Le nostre coscienze Perché mi sembra Di essere ritornato A 80 anni fa A quello Che vedevamo Come l'approccio Delle dittature Nella seconda guerra mondiale Era quello Che poi ci ha fatto piangere Milioni di morti E purtroppo L'atteggiamento di Putin È questo Quindi su Putin Non si può scherzare C'è solo La condanna ferma E la solidarietà Profonda Con quello Che è la lotta Del popolo ucraino Tutto molto chiaro E condivisibile Le chiedo Se anche nel centro-sinistra C'è un po' Insomma un po' Di discussione Su come cercare la pace Secondo lei Questo potrebbe Al di là Delle buone ragioni Degli uni o degli altri Potrebbe Diciamo Inficiare Il dialogo Ma Devo dire Che qualche volta L'avverto anch'io Oggettivamente Io Sotto questo aspetto Ritengo Che la pace Sia sempre L'obiettivo Da perseguire Noi viviamo Profondamente Quello che È lo spirito Di una Costituzione Che ripudia Fu scelto Ad hoc Molto accuratamente Il termine Nella Costituzione Si dice La Repubblica Ripudia La guerra Come strumento Di risoluzione Dei rapporti A livello internazionale Ma in questo Ripudiare La guerra In questo Cercare Costantemente La pace Mai Occorre Perdere di vista Chi La pace La vuole davvero E chi Invece Dietro Questo Anelito Di pace In realtà Vuole mascherare Quello Che sono Brutalità E atrocità Che la Russia Ha manifestato In questo Conflitto E che sono Inaccettabili Senta Sindaco Coinvolgo Lei Innanzitutto Le voglio chiedere Se c'è un Berlusconi Delle sue Partie Non so Lei ha Qualche Immagino Ha un Assessore Di Forza Italia Almeno Nella sua Giunta Si Si Ma Sono due Donne Bravissime Ok Due Donne Celesti Se non ricordo male È di Forza Italia La vicepresidente La vice Sì La vice Celesti Alessandra Frosini Esatto Adesso Ricordo Alessandra Frosini Che se non ricordo male È assessora Alla pubblica istruzione Litiga Spesso Con i suoi Alleati D'altronde Il suo Governo Cittadino È la Riproposizione Del governo Che si Replicherà A livello Nazionale Se tutto va bene Nelle consultazioni Di oggi È un prototipo Come si fa a coesistere Con gli altri partiti Ci vuole una leadership Forte Mi immagino No ma non solo Noi abbiamo una storia Politica Che ormai avanza Da 15 anni 20 anni Fatti sui banchi Delle opposizioni Quindi è una storia Di una comunità Che ha lottato Per governare la città Quindi c'è un'amicizia Che va oltre La politica Poi ogni tanto Abbiamo visioni differenti Ma credo sia positivo Ecco L'anima più laica Di Anna Maria Più vocata al sociale E invece Alessandra È più pratica Ora ha preso Anche lavori pubblici Quindi diciamo È una sintesi Si fa quotidianamente Però nasce Da un percorso E dalla responsabilità Di governare Pistoia Ecco Noi Prima che litigi Tra di noi Viene quello Che ci hanno detto Ci hanno detto Cittadini A giugno del 2022 Invece da interlocutore Privilegiato Invece da interlocutore privilegiato Il silenzio Ci sono tanti problemi Da risolvere Da interlocutore privilegiato Della prossima Premier La preoccupa L'atteggiamento di Berlusconi O la preoccupa più Quello di Salvini No io Mi preoccupa Che non si percepisca L'importanza Del momento Ecco storico Io L'inviterei Tutti quanti A venire una giornata A fare il sindaco Il presidente Della regione Con i cittadini Con il fiato sul collo Con le bollette Alle stelle Però vorrei dire Anche un'altra cosa Poi a volte I giornali Fanno il loro lavoro Ieri L'altro giorno Ospite da noi Lucio Caracciolo Direttore di Limes E cito quello Che ha detto lui Guardate che gli americani Perdonano qualche saluto In più a Putin Ma non perdoneranno mai I rapporti con la Cina Quindi nella geopolitica È una materia molto complessa E quando si aprì la via Della seta Quello non lo hanno mai Perdonato Al governo italiano E si sono molto preoccupati Quindi come la materia È molto complessa Qui il quadro è chiaro Giorgia Meloni Sta Nel confezione Fino l'atlantista Con l'Europa Dentro di questo Io mi auguro Che faccia l'interesse italiano E a questo proposito Sindaco Leggo la risposta di Berlusconi Sulla Cina Che riguarda la Cina C'è un passaggio Chiede l'intervistatore Di quelle dichiarazioni Che è poco chiaro Lei auspica Un intervento deciso Di chi? E Berlusconi risponde Credo che una soluzione Definitiva nella guerra Si potrà raggiungere Solo Con un forte Congiunto intervento Degli Stati Uniti E Della Repubblica Cinese Quindi Diciamo C'è Questo Questo tarlo Anche Dentro la posizione Di Berlusconi Anche insomma Chiarita E comunque Ribadisco tutta la mia vita politica E tutti i miei Atti di governo Dice Berlusconi sono stati Nel senso dell'Occidente Dell'Alleanza Atlattica Ovviamente Ribadisce questo Facciamo un passaggio veloce Sui tirreni Invece locali Montecatini Terme Verso lo stop Adesso magari chiediamo Anche al Presidente della Regione Che punto è L'interlocuzione Con appunto Anche Coloro che devono risolvere Questa vicenda Se ne occupa L'assessore Pratese Cioffo Per conto del Presidente Ancora Non rinnovati I contratti In scadenza Fine mese Senza stagionali Impossibile garantire L'attività Andiamo ancora avanti Pistoia Purtroppo Guarda proprio La notizia Terribile Della Insomma Della città Del sindaco Tomasi In fin di vita Calciatore Si parla di un malore Per Davide Gavazzi Un portiere di 28 anni Dell'ASD Montagna Appunto Si è accasciato Mentre stava per iniziare La partita di Coppa Toscana Insomma Adesso magari diciamo Una parola anche su questo Conoscendo l'impegno Nello sport Anche nello sport del Presidente Lucca Comics Questa è una buona notizia Invece battuto il record Poco più in là Andiamo a raccontare Un record positivo A oltre una settimana Dal via La Toscana Che fa sorridere Sono già stati venduti 271 mila biglietti Insomma Tanta roba Intanto Sono terminate Le selezioni Di appunto Winch Per i 600 Felpati 271 mila biglietti Sono davvero tantissimi Voglio Però Andare a questo punto Anche sulla politica Molto velocemente Prendo in mano Il giornale di carta Lo rispiego Per chi si è collegato Solo ora Oggi Alcune edizioni digitali Non sono uscite Quindi noi ci siamo Premurati Di andare in edicola La mattina presto Quando ancora il sole Non è sorto E praticamente Vediamo la Repubblica Firenze Proprio perché Non ve la potevo mostrare Dopo avervi mostrato Il Corriere Fiorentino Il Tirreno E tra poco la Nazione Si parla di maggio Sindacati all'attacco Allarme sugli stipendi Ma si parla subito A pagina 2 Di una vicenda Che riguarda La Regione Vediamo qua La foto anche Del Presidente Eugenio Gianni Con la segretaria regionale Simona Bonafè Del Partito Democratico Ma anche la foto Di Alessandro Nardini Assessora al lavoro Appunto della Giunta Scrive Ernesto Ferrara PD Rivolta contro il rimpasto Panacea Contro il mettileva Della Giunta regionale Col bilancino Correntizio territoriale Adesso Lo chiediamo subito Il Presidente Che so già Non gradire questo lessico Perché lui si parla Di sostituzione E integrazione Perché Presidente Che cosa sta succedendo Perché non esiste Il rimpasto Il rimpasto Lo decide il Presidente E la Regione E io Con molta chiarezza E nettezza Ritengo che La Giunta regionale Stia lavorando bene Stiamo trovando Sempre maggiore Armonia Sul PNNR Ci stanno Individuando A livello nazionale Come una delle regioni Più virtuose Sulla pandemia E quello che Ha significato La campagna Di vaccinazione Siamo usciti Fra i migliori A livello nazionale Siamo impostati Per quello che riguarda Tutta una politica Delle infrastrutture Ma anche Dei servizi sociali Scolastici In senso positivo Quindi Io non cambio Assolutamente La Giunta Vi erano Due casi Particolari Per questo Non voglio La parola Rimpasto Ma al massimo Si può parlare Di integrazione Della Giunta Con la previsione Nella nuova figura Che esiste già in Lombardia Esiste in Emiliano Magna Del sottosegretario Alla presidenza Che sarà Per Alessandra Non ancora Non abbiamo deciso Perché ancora non è stata approvata La legge dal Consiglio Ma sicuramente Appena viene approvata Quella legge Io provvederò Alla nomina Di un sottosegretario Ma Conte È vero perché Se non ricordo male Mi spieghi Lei è anche ovviamente Esperto dell'Aula Era stata approvata E diciamo È stata approvata la modifica La modifica di statutaria Però adesso serve Per poter definire Anche la struttura Di questa cosa nuova Cioè del sottosegretario Con una legge regionale Nelle commissioni Quando Anche perché poi Oltre che Al sottosegretario Il Consiglio regionale Allarga L'ufficio di presidenza Quindi per alcuni aspetti Di carattere tecnico Burocratico Appena viene fuori La legge Provederemo E poi Quello è il passaggio Della integrazione Esatto E poi La sostituzione Se Alessandra Nardini Che si trova A seguito Della Nomina Di Simona Bonafè A parlamentare Lei è stata eletta E conseguentemente Diventa Esponente Del Parlamento Italiano Quindi È incompatibile E lascia Il Parlamento Europeo La prima Dei non eletti Dopo Simona Bonafè È Alessandra Nardini Assessore della mia giunta Se Alessandra Nardini Decidesse Di Seguire L'esperienza A cui la porta L'elezione Al Parlamento Europeo E naturalmente Anche nel partito C'è chi dice Ma Se non Ci va Alessandra Nardini La Toscana Perde Una rappresentanza Nel Parlamento Europeo C'è quindi C'è chi Vorrebbe Che lei andasse Però poi A decidere Fondamentalmente Deve essere lei Se lei Decide di Nuanere Qua in Toscana Io non pongo Non solo Non pongo nessun problema Ma continuiamo a lavorare bene Come abbiamo lavorato Quindi non è fra una questione di principio Appunto Assolutamente Quanto ci risulta Alla cronisti politica Lei vorrà rimanere Quindi insomma Lei Io ritengo Che non ci sia rimpasto Perché c'è semplicemente L'avvicendamento In un caso Al ruolo di sottosegretario Nell'altro Solo eventuale E solo Se Alessandra Nardini Va via Ho capito Ho capito Ed è una cosa Che anche il partito Insomma Le ha domandato Nella direzione So che i territori Hanno chiesto Più rappresentanza E questo è il punto Hanno chiesto Più che più rappresentanza Diciamo così Una Una diversa Rappresentanza Territoriale Considerando che Essendo 10 le province E noi avevamo 8 assessori Ci sono dei territori Che sono scoperti Quindi si è parlato Di un riequilibrio Nel momento in cui Venissero a maturare Diciamo Questi due ruoli di governo Però io Ne tengo conto Ma a livello generale Perché quello che conta È l'efficacia E l'efficienza Dell'azione di governo Quindi io non antepongo L'efficacia Dell'azione di governo Ad altre logiche Non mette il carro davanti ai buoi Ho capito Esatto Ho capito Però ecco Sinceramente Anche rispetto a quello Che vedo Nelle descrizioni giornalistiche Trovo La direzione Il dibattito Che si è rivolto Molto più costruttivo E sereno Di quanto poi Uno si possa immaginare Sinceramente Ho visto interventi Che partono Dal presupposto Che il partito democratico A livello nazionale E quindi anche Nei territori Ha perso Ma contemporaneamente Cerchiamo di delineare Quelle azioni Per ritrovare Un rapporto Diciamo Stretto Con il nostro elettorato Per ritrovare Motivazioni Perché quello di cui In questo momento Nel popolo del PD Sento È proprio la questione Di motivazioni E di obiettivi E programmi politici Che possano riportare Quella tensione positiva Che deve animare Una forza politica Capisco Poi un'altra curiosità Su questo presidente È stato molto chiaro Sindaco Le voglio chiedere una cosa Non è che voi avete Il problema opposto del PD Il PD Fa i conti Direi Necessariamente Con dei riequilibri E con una riflessione interna Rispetto alle elezioni politiche Però Insomma Come dire Anche il Fratelli d'Italia Forse è il problema opposto C'è una crescita Talmente grande Che è anche complicato Lo vediamo Insomma Magari Insomma Nei ministeri Però Non è che voglio dire Che vi manca il personale O la cassa di dirigente Ci mancherebbe altro Però immagino Abbiate il problema opposto Perché siete cresciuti Abbastanza velocemente O sbaglio No no È così Il rischio di un partito Che cresce velocemente È Imbarcare Persone Che vengono Per opportunismo Soltanto per Per il momento felice Che stiamo vivendo Devo dire Che in Toscana Le liste sono state fatte bene I diletti Sono persone Che io conosco da anni Sono persone Che hanno fatto Con l'assessore Penso a Siena Penso A Gli amici di Grosseto Fabrizio Rossi Con l'organizzazione regionale Penso a Chiara Laporta A Prato Del movimento giovanile Penso A Patrizio Lapietra Alla conferma di Zucconi Quindi In Toscana È andata bene Ecco Sono contento Diciamo Che nessuno Abbia approfittato Dell'andamento Sono state premiate Persone Sul territorio Alessandra Morese Ammassa Dirigente storico Dei movimenti giovanili Quindi io sono Sono soddisfatto A una buona classe dirigente Oggi è alla prova Di governo Che è un'altra cosa Rispetto a stare All'imposizione Abbiamo saputo Sindaco Che la vostra leader Giorgia Meloni È quasi ossessionata Ovviamente Positivamente Dal partito Infatti Diciamo La figura di Giovanni Donzelli Che insomma Sia il presidente Conosce molto bene E anche lei Potrebbe essere Da quello che ci restituiscono Le cronache E anche i corridoi Dei palazzi romani Una figura centrale Potrebbe essere Il reggente Del partito Il vero nuovo segretario Anche lei lo conosce bene Poi magari chiedo Un parere anche al presidente Però Prima di tutto Lei sindaco Che partito diventerà Con Giovanni Donzelli Reggente No Un partito Ci siamo Conosciuti Quando In un'occasione Non ci volevano Fare entrare All'università Occupata I centri sociali I campi Non ci volevano Fare entrare Lui Deve aprire la porta Scava il cambo Le finestre Di via Laura Quindi Li voglio bene In Santa Reparata Aveva la serie Un'inturiziale Giovanni è un grande Organizzatore Un grande Comunicatore Cura la comunicazione Cura l'organizzazione Ha curato la composizione Delle liste Quindi ha E avrà un ruolo Centrale Sono contento E sia toscano Anche con lui Siamo cresciuti Da quando siamo Ragazzi A volte abbiamo Avuto anche visioni Differenti Ci siamo scontrati Nei congressi Però quando si fanno I congressi veri Quelli di essere Anche chi perde In quel caso Io ho perso Trova il suo ruolo E il partito Trova veramente Una sintesi Non di facciata Quindi i congressi Sono importanti Non mancheranno Le occasioni Per raccontare La sua lotta Giovanile Con Giovanni Donzelli Interna Credo che ci saranno Presto occasioni Per raccontare Insomma Una vostra Comune battaglia Ma non faccio Riferimenti Per rispetto di tutti Io con Giovanni Invece La conoscenza È proprio Nelle aule Democratiche Dei nostri consigli Io ero Presidente Del consiglio Comunale A Firenze Dal 2009 Al 2014 Giovanni Donzelli Era il capogruppo Del suo partito Quindi l'interlocuzione Nell'aura È molto più forte Che fra i livelli Di governo E poi Quando sono diventato Presidente Del consiglio Regionale Nel 2015 Ecco che In quei cinque anni Ci siamo trovati Nuovamente Di fronte Io presidente Del consiglio Lui capogruppo Del suo partito E naturalmente Si è consolidato Un rapporto Che è stato Anche fortemente Dialettico Però poi Sul piano Dei valori umani Io gli riconosco Una grande Passione Onestà Rigore Per cui Anche se Del territorio Quindi sicuramente Giovanni È una persona Molto attaccata Alla Toscana E quindi Non farà mancare La sua sensibilità Una domanda Lampo Per tutti e due Vi fa paura Proprio Lampo Quindi se potete rispondere Veramente telegraficamente Che siamo quasi in chiusura Vi fa paura La contrarietà Di alcuni comuni Rispetto a questo progetto Qui faceva riferimento Adesso il presidente La Multi Utility Ci sono C'è qualche moto Di protesta Eccetera Oppure secondo voi Si andrà alla fine Come dicono i molti A una soluzione positiva Rispetto al progetto Ma io vedo molto Positivamente l'approccio E qui è un fatto Di maturità Insomma il fatto Che ne stiamo parlando Insieme Con una simile visione Con Tommasi È molto significativo Mentre in altri momenti Io ho trovato Non solo Fra le opzioni politiche Centrodestra Centrosinistra Una posizione diversa Sulla gestione Di servizi Ma devo dire Che alla fine Gli anni 90 Inizio gli anni 2000 Quando si pose Il problema Del trasferimento Dei servizi pubblici Da aziende Municipalizzate A società Per azioni Allora c'era Molto più Campanilismo Sarebbe stato impossibile Anche se Magari allora Eravamo tutti Del centro-sinistra Vedere con questa chiarezza Di visione E unità I sindaci di Firenze Prato Pistoia Empoli Allo stesso tavolo Allora prevaleva Ripeto Anche se vi era Una stessa parte politica Molto più Un senso del territorio Che era Molto legato Al municipio Al proprio comune Molto interessante Vedere che Proprio Gianni Che penso Non ci sia Il miglior conoscitore Dei campanili In Toscana Però Agire In questa Diciamo così Anche forma politica Sempre Della coesione Fra i campanili L'abbiamo visto Anche in altri progetti Tommasi Anche lei Telegrafico Vi fa paura Questa ritrosia Di alcuni comuni Prima ho citato Quei due Nella sua provincia Ma credo In Toscana Teranno 7-8 Cito Vaglia Calenzano Fiesole Vado a memoria Penso anche A Cantagallo E ovviamente Al comune di Sesto Fiorentino Dove tra l'altro Vive il nostro Presidente Della Toscana Che con Falchi Insomma Di sinistra italiana Sono una decina Questi comuni Potrebbero rappresentare Un problema La preoccupa Oppure secondo lei La strada è stata imboccata Come anche il Presidente Ci ha spiegato No Le preoccupazioni O paura Sono termini sbagliati Sono dispiaciuto E non bisogna essere Disonesti E sono sconfitte Che dobbiamo Prendere in capo Noi Quindi Secondo me Il progetto È stato spiegato male E è mancato Forse Un coinvolgimento Ecco Quindi Non ci si può Nascondere dietro Un dito E lo stesso per me Vale per I comuni Capoluoghi Poi sono liberi Di aderire o no Come gli altri comuni Ne rispetto profondamente La scelta Ma oggi La sfida Parte da oggi Deve diventare Toscana Non può rimanere Una multitudine di aria vasta Se no abbiamo perso Molto chiaro Perché non ha le spalle grosse Per difendersi Da era E proprio quel fallimento Dei campanismi Di vent'anni fa Non può essere Ripetuto Perché siamo Veramente Sull'orlo Di un baratro Ecco Non siamo Come vent'anni fa Il fallimento Di vent'anni fa È gravissimo Non si può Sacrificare il territorio Per il campanile E mentre di là Si faena Qui siamo Su un baratro Quindi è una sconfitta Dovremmo Cercare Di riprendere in mano Il comune Capoluogo Cannaderito Un percorso Per spiegare meglio Per aumentare Le adesioni E per spiegare Qual è il vero Progetto industriale Questo è Adesso Il progetto industriale Quello noi attendiamo Ultimi secondi Ultimi quesiti Presidente Non meno importanti Due cose le voglio chiedere Rispetto al discorso Che si faceva prima Rispetto al partito Democratico E al periodo Che sta attraversando Non le chiedo Ovviamente Di anticiparci Quella che è la sua idea Del partito L'ha già detto L'ha spiegata Lo dico velocemente Il modello toscana Proprio quando ha detto Quella frase Pochi giorni dopo Insomma Quella che è stata L'esito elettorale Abbiamo visto Noi cronisti Politici Rinsaldare O saldare Ancora di più Il rapporto con Simona Bonafè Deve rimanere lei Secondo lei Secondo me sta andando bene Quindi a mio giudizio In questo momento Simona sta svolgendo Bene il suo lavoro Devo dire che Per il partito democratico Però si aprirà Nella prossima primavera Un congresso Che sarà un congresso Molto importante Perché sarà un congresso Questa volta Non da condurre All'insegna Dell'ecumenismo Ma nella scelta Dei programmi In primo luogo Ma poi dei personaggi Che li interpretano Del segretario Perché Letta Già con molta chiarezza Ha detto Che lui non si ripresenterà E certo Ci sarà la visione Del partito democratico Del futuro E probabilmente Sarà la scelta Fra un partito Autenticamente riformista E un partito Che magari Cerca di raccogliere Consensi Su una sinistra Movimentista Che si riaffaccia E che comunque Vota per 5 Stelle Pur proveniendo Magari da una cultura Più strutturata Di sinistra Non lo sospettavamo Ma abbiamo capito Da che parte sta lei Io naturalmente Sono un riformista Sia che Convinto La presenti E starò sempre Nel PD Perché io credo molto In questo partito Di ispirazione Democratica Che guarda Sinistra Però è evidente Che nel PD Ci sarà sempre Una dialettica Fra l'anima E la storia Della sinistra In Italia E in Europa E quindi io sarò sempre All'area Non farò la gaff Di evocare una risposta ovvia Chiedendole se Bollaccini In Ardella Sono buoni Questi sono altri momenti Per cui chiedere questa cosa Ovviamente sarebbe una risposta Chiamata Sono tutte e due Dei immagini molto vali Non l'avrei chiesto Però le chiedo invece Una cosa importantissima Domani è un giorno importante Per la Toscana E domani Se non ricordo male Sì, il ricassificatore Esatto, il ricassificatore Domani abbiamo la conferenza Dei servizi Sul ricassificatore Che arriva al termine Di un iter Che io ho voluto Molto partecipato In modo che Poi vi fossero Tutti gli atti Tutte le osservazioni Tutti i documenti Sia di natura tecnica Sia di natura Più strettamente legati All'opportunità Sul territorio Però io ritengo Che sia un momento In cui l'Italia Ha bisogno Di autosufficienza energetica E se il governo Come è accaduto Col governo Draghi E col ministro Cingolani Ha ritenuto Che Piombino Che ha Una banchina Di 300 metri E la nave Di 297 metri Ha una possibilità Di arrivare Alla rete del gas Con una conduttura Di solo 8 km In varie altre realtà Le condutture Sarebbero di 40-50 km Lei commissario Io commissario Ci sono tutte le condizioni Come mi sembra Stiano emergendo Sono propenso A dare l'autorizzazione Naturalmente Con accanto Lo approveremo lunedì In giunta Il memorandum Piombino Cioè le opere In cui il governo Si deve impegnare Per la capitale Della Val di Cogna Certo Abbiamo raccontato Più volte Questo passaggio Senta Io ho lavorato Per voi Presidente Nel senso che Mi sono andato A studiare Un po' la storia E la sto facendo vedere Dai giornali di oggi La storia E la predisposizione Del nuovo Futuribile Ministro della Transizione Ecologica Visto che lei ha citato Cingolani Gilberto Picchetto Frattin Di Forza Italia Le cui posizioni Al contrario Della candidata Eletta da Forza Italia In quel territorio Sono sviluppiste Nel senso Che lei stesso Ha sottolineato Quindi insomma In continuità Con Cingolani Le chiedo Il ruolo di commissario Glielo chiedo Tecnicamente Finisce quando lei Eventualmente approva il progetto Continua con questo No perché devo attuare Poi E quindi Cioè ci deve essere Una nuova nomina Di questo governo Oppure in continuità Non perché la legge Prevede che il compito Non è legato al tempo È legato al fatto Cioè all'attuazione E al posizionamento Della nave di rigassificazione Di conseguenza Io continuo il mio ruolo Naturalmente Osserverò Secondo tutti i crisbi Che la legge prevede Quello che può essere Il rispetto Da parte del nuovo governo Io poi sono sempre Molto costruttivo Per cui Siccome io sento Che al di là Delle opinioni politiche Ma ciascuno di noi Lo sento per me Lo sento E lo vedo concretamente Con Tommasi Lo vedo Con Prima si citava Donzelli C'è In chi Si impegna Con costanza Dando Se stesso Il proprio tempo La propria passione Alla politica E all'impegno amministrativo C'è un Senso Dei valori Dello Stato Dei valori Del nostro territorio Del rapporto Con la cittadinanza Quindi io sono sempre Positivo Nel aspettarmi E una persona Che proprio In nome del curare Gli interessi Dei cittadini Faccia il meglio Purtroppo Devo chiudere Quindi vi devo fare L'ultima domanda Devo farla tutti e due È uguale Ovviamente qua Asperiamo Ad essere eleganti Ad essere gentili Ad essere ben educati Ma anche a far bene Il nostro lavoro Quindi non si può Nascondere Ai telespettatori O chi ascolta il podcast Di prima di tutto Su Spotify Che qua abbiamo due Come ho detto Più volte Protagonisti Assoluti Della politica toscana Forse i protagonisti Chiedo prima a Tomasi E poi al Presidente Se mai vi capitasse Nella vita Fra 50 o 60 anni Di trovarvi contro Per un Diciamo così Un duello elettorale Chiedo prima a lei Sindaco Che gara sarebbe Sarebbe una gara difficile Da quello che Di cui vedo io Perché insomma Vedo che La concordia regna Non ci sarebbe Forse quella sfida Al calor bianco Che abbiamo visto In altre occasioni O no? No Tutte le sfide Sono difficili Soprattutto per noi In Toscana Quindi sono difficili Assolutamente Perché Comunque Anche nelle ultime elezioni Il centro-sinistra Ha dimostrato Comunque in Toscana Nonostante la sconfitta Di essere più attrezzato E di avere Una classe dirigente Ma penso di sì Al di là Dello stile Di ciascuno di noi Le battaglie Non si vincano più Ideologicamente Gridando dall'altra parte Magari Io ho il pericolo Del comunismo O chissà che Quindi si combattono Sulle idee Quindi io Anche perché Gianni Non è sospetto Di essere comunista Dopo quello che ha detto Di raccontare Un'idea Di città Che uno ha Ecco Quella è la sfida Nella mia campagna elettorale Contro Frasoni Non tanto Dire quanto Frasoni sbagliasse O fosse inadatta Anzi Io la conosco bene Insomma Ha un'esperienza amministrativa Non si vincano più Così le battaglie Capisco Allora lo chiedo a lei Gianni Insomma Sarebbe contento E secondo lei Andrà a finire così Sarete Attenzione Prima o poi Lei e Tomasi Ma io Se ci trovassimo In una situazione del genere Sono convinto Sarebbe una campagna elettorale Per i cittadini Positiva e preziosa Perché Conoscendo le caratteristiche Di tutte e due Sarebbe molto Sui temi amministrativi Cioè sui temi concreti Di come creare più benessere Più sviluppo E più solidarietà Nella nostra regione Di conseguenza Sarebbe sulle cose E io vorrei che la politica Sia sempre sulle cose Nei confronti Del rapporto Che dobbiamo avere Con l'elettorato Grazie davvero È stato veramente Molto stimolante Voglio ringraziare Prima di tutto I miei ospiti Il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi Collegato Buon viaggio Santiago de Compostela So che insomma Anche per la continuità Che ha Appunto Il suo territorio Con quella tradizione È importante No e questo Anzi glielo formulo Anch'io Perché è veramente Molto bello Il rapporto Che Pistoia Del resto È la tradizione Jacopea Che vorrei valorizzare Perché in Toscana Anche perché poi Da San Jacopo Arrivavano certo A Pistoia E quindi La festa Che il 24 luglio Viene vissuta Però arrivavano Anche nel piccolo San Jacopino La piazza Di Firenze Che dà il senso Di come questa tradizione Avvolgesse Tutta la Toscana Assolutamente A Firenze Come vede Insomma Quello che dicevo prima Tommasi Riguardo a Gianni Che conosce molto bene Come sa Quindi la sfida Potrebbe essere Vista che ho detto Fra 30 anni Fra 40 anni Anche per il comune Di Pistoia E non Insomma Al riferimento Amministrativo Che facevo prima Grazie davvero Anche Grazie a voi Al presidente Di essere stato con noi E per aver Riparato immediatamente Al piccolo incidente Che si è creato ieri Veramente Lo apprezziamo molto Do appuntamento Come ogni giorno Con l'assegna stampa Ragionata di TV Prato Alle 7.30 A domani Prima di tutto Questo programma è stato offerto da Confcommercio Pistoia E Prato Scopri vantaggi di essere socio Nigro Costruzioni Creiamo spazi Costruiamo il futuro www.nigrocostruzioni.it